La Cross Guild è stato il punto focale dell'ultimo capitolo di One Piece. L'alleanza stretta tra alcuni ex membri della flotta dei Sette, oltre all'Hype, ha suscitato tante polemiche. Questo perché il governo ritiene Buggy, il clown, il leader di tale alleanza. Ciò rende gli altri due pezzi da 90 dell'organizzazione, Mihawk e Crocodile, dei sottoposti di Buggy. Ma questa è solo la visione superficiale che si può dare. Lo stesso Zoro nel capitolo ha ammesso l'impossibilità che Mihawk sia un diretto sottoposto di uno come Buggy. È chiaro dunque che la realtà è sicuramente ben diversa. La Cross Guild altro non è che un'alleanza di pezzi grossi della pirateria rimasti esclusi sia dalle ciurme più potenti, sia da eventuali organi del governo mondiale. Ma il fatto che il governo mondiale abbia disegnato Buggy come leader di tale fazione non vuol dire che lo sia davvero. Dal punto di vista mediatico, infatti, Buggy gode di grandissima popolarità, essendo stato parte della ciurma di Roger in passato. Egli è considerato una vera e propria leggenda della pirateria. Sia lui sia Shanks sono partiti da semplici mozzi, e sono, oggi, entrambi imperatori. Non bisogna sottovalutare il valore mediatico della loro gavetta, che incide sicuramente sull'opinione pubblica e ancor di più sul carisma che può avere un personaggio combattivamente discutibile come Buggy. Potrebbe essere dunque soltanto una facciata, quella di Buggy leader. Anche se Mihawk e Crocodile stessi si professassero sottoposti del clown di loro iniziativa, ciò non impedirebbe loro di fare letteralmente ciò che vogliono singolarmente, godendo tuttavia di una base su cui tornare. La Cross Guild rappresenta per loro, dunque, una grande protezione. Proteggersi a vicenda conviene a tutti loro, dal momento che, singolarmente, finirebbero prima o poi per essere presi. Dunque è chiaro che il motivo principale per cui Buggy è stato nominato Yonko è proprio la fondazione della Cross Guild, unita alla quantità di territori e di sottoposti di cui dispone e alla sua già precedente fama da pirata leggendario. Insomma, quando Buggy è diventato Yonko si voleva a tutti i costi la spiegazione, adesso che è stata data c'è comunque del malcontento, la community non è mai contenta. Ma bisogna ammetterlo, quella della Cross Guild è una trovata geniale, soprattutto considerando un fattore che è stato probabilmente uno dei più rilevanti ad accrescere la pericolosità di Buggy, ovvero l'aver messo delle taglie sulle teste dei Marines. Questa è un'azione che nessun pirata aveva mai neanche lontanamente pensato. Indurre i pirati o i civili stessi ad attentare alla vita dei Marines è un'azione che mette ancora di più a gambe all'aria l'equilibrio mondiale, già destabilizzato dalla caduta di due imperatori e dalla rivolta delle otto nazioni, scatenata dall'armata di Dragon. Bisogna comprendere infatti che questa mossa non serve solo a mettere in difficoltà la Marina, serve anche ad ingrandire la Cross Guild. Ogni pirata che riuscirà eventualmente a catturare un Marine con una taglia sulla testa, dove andrà a riscuotere la ricompensa? Proprio da Buggy, il che significa che diventerebbe un suo alleato, accrescendo in quantità e qualità l'organizzazione. Prima di salire sul carro dopo, è meglio iniziare a capire già da adesso la potenzialità narrativa che questa organizzazione avrà nella parte finale dell'opera. Ad esempio, un altro pezzo grosso che potrebbe unirsi qualora non l'avesse già fatto è Weeble. Il giovane pirata si è dato da fare e si è fatto un nome, ma è senza ciurma e sua madre è Bakkin, piratessa avida che militava nei rocks. La probabilità che si uniscano a Buggy per arricchirsi è alta, resta poi da capire che fine abbia fatto Boa Hancock. Personalmente non escludo che possa unirsi a Buggy, troverebbe come gli altri un rifugio sicuro per sé e per le Kuja e potrebbe benissimo decidere in futuro di tradire il clown se dovesse esserci la necessità o l'opportunità di schierarsi con Luffy. Questo perché, ripeto, Buggy è probabilmente il leader di facciata, ma ognuno lì fa sicuramente come vuole. Oltre a questo, dovremmo anche considerare la Cross Guild come un'opportunità per Oda di inserire vecchi personaggi che vorrebbe riportare in auge, portandoli ad unirsi a tale organizzazione affinché possa renderli partecipi in quella che sarà la grande guerra finale. Mi riferisco soprattutto a personaggi che hanno, in qualche modo, promesso di tornare. Un esempio potrebbe essere Jin, ex spalla di Don Crick, o lo stesso Caesar Clown, ora che il business degli Smile è crollato per via della disfatta di Kaido e Orochi. Uno come lui sarebbe sicuramente un'arma in più per Buggy e un modo per Caesar di tornare in auge e di riportare alla luce la sua rivalità con Vegapunk. Per quanto riguarda Enel, invece, per lui è un tantino diverso. Enel non diventerebbe mai un sottoposto di qualcuno, nemmeno se dovesse trattarsi di uno yonko per via del fatto che lui si considera Dio. Questa sua superbia non lo porterebbe neanche ad accettare una finta sottomissione come hanno probabilmente fatto Mioc e Crocodile. Pertanto, se dovessimo proprio rivedere Enel nella guerra finale, sarebbe un vero e proprio Jolly, un cane sciolto che non presta ascolto a nessuno che non sia se stesso. Dunque, concludo dicendo che, personalmente, trovo la Cross Guild una genialata del maestro Oda. Questo perché rende Buggy l'elemento più imprevedibile dell'intera opera, la vera matta dell'enorme mazzo di carte che One Piece ha. Se poi consideriamo che Oda ha espresso chiaramente la sua volontà di inserire elementi divertenti e umoristici all'interno dell'opera, così come ha già fatto con il Gear Fifth, siamo sicuri che per accrescere il livello di divertimento e gag comiche non possa rendere proprio Buggy il villain finale? C'è anche Miocca adesso, ovvero l'obiettivo numero uno di Zoro? Fateci sapere che ne pensate nei commenti, sbizzarritevi con le vostre teorie e i vostri pareri sulla Cross Guild. Noi ci vediamo alla prossima. Sayonara! Bene ragazzi, il video termina qui. Speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!